A ciò che sta accadendo non possiamo rispondere con il silenzio. È nata la Terza Guerra Mondiale e l'Europa, colpita al cuore, sfidata ripetutamente, non può più rimanere alla finestra a guardare quello che accade nell'Asia Medio-Orientale, in Africa o in altri paesi apparentemente lontani. Lo sostiene Padre Mauro Gambetti, custode del Sacro Convento di Assisi, per il quale la risposta da dare è quella della fraternità umile tracciata da Francesco, vissuta sulla strada prima ancora che nei conventi, caratterizzata dalla reciproca sottomissione. Dal sito della comunità religiosa sanfrancesco.org, Padre Gambetti ha lanciato un decalogo contro la Terza Guerra Mondiale. Per il custode l'Europa non può nemmeno limitarsi ad aggiornare programmi e convenzioni per l'accoglienza dei profughi. Il terrorismo trasversale, infuocato dai proclami di una guerra santa, aggiunge, costringe i governi e i cittadini a prendere posizione, nascondersi come topi o uscire allo scoperto. Guerra santa, misericordia. Al custode del Sacro Convento, nell'editoriale Torno alla Mente, Giovanni Paolo II, che nel 1986, in piena guerra fredda, convocò ad Assisi i leader mondiali delle religioni per invocare la pace nel mondo. Quest'anno, ricorda Padre Gambetti, corre il trentennale di quel primo incontro e i frati francescani di Assisi, insieme alla comunità di Sant'Egidio e alla Diocesi, escono allo scoperto e spalancano le porte per un nuovo incontro tra i leader mondiali delle religioni. Dal 18 al 20 settembre, due giorni di tavole rotonde e una giornata di preghiera. Con i leader religiosi sono invitati uomini politici, esponenti del mondo scientifico e della cultura, operatori di pace e tutti gli uomini di buona volontà. Chi vuole, venga in Assisi. Questo l'invito del custode. Insieme a Fermaci domanderemo quali sono i principi riconosciuti da tutte le religioni per una coesistenza pacifica, quale contributo la politica, la scienza e le culture in genere possono proporre per la definizione di un decalogo dell'umana convivenza. E si legge più avanti, coltiviamo un sogno che l'Italia assurga ad esempio di integrazione delle culture, assumendo il decalogo che verrà scritto in Assisi, nell'ordinamento legislativo e nei decreti attuativi. Forse si potrà estendere il modello agli Stati europei e a tutti gli Stati membri dell'ONU. Crediamo che la strada di Assisi, ha concluso il custode, quella della fraternità umile tracciata da Francesco, vissuta sulla strada prima ancora che nei conventi e caratterizzata dalla reciproca sottomissione, sia la risposta da dare.